Sesta giornata del campionato di promozione Gironi C, con noi il presidente Ricci che finalmente, oserei dire, respira con il suo Cervinari in quanto si inizia a vedere in lontananza l'alta classifica, anche se il Montesarchio viaggia a vele spiegate. Una sesta giornata che sarà veritiera sotto tanti aspetti. Penso che questa sia una giornata che darà molte indicazioni, perché il Montesarchio va a Mugnano, che è una bella squadra, abbiamo visto domenica Cervinara. È una squadra che può dire la sua in questo campionato di promozione. Noi andiamo su un campo un po' difficile, perché è una squadra che lotta fino alla fine per portare a casa qualche punticino per la possibile salvezza o, non lo so, un centro classifica. E quindi per quanto riguarda queste due squadre, poi c'è il guardia che pure lei oggi, mi sembra oggi o domani, mi sembra che gioca domani, quindi avrà la sua partita per dimostrare ancora se ha la forza per stare in vetta. Quindi voglio dire, oggi è una sesta giornata che sembra una giornata tranquilla, ma non lo è, proprio per questi motivi. Senta, Presidente, il campionato del Cervinara domenica scorsa ha fatto registrare una vittoria 2-0 con i bomber che, come al solito, vanno in gol, Portone e Mortelliti. Però c'è oggettivamente ancora qualche difficoltà per il Cervinara, soprattutto nella creazione dell'Aipalle Goal? Vabbè, no, io non vedo questa grande difficoltà, però dobbiamo dire anche che dalla prima alla quinta giornata il centrocampo non è stato mai lo stesso. Abbiamo avuto delle difficoltà, vuoi per infortuni, vuoi per qualche squalifica, quindi non abbiamo mai avuto la possibilità di avere sempre lo stesso centrocampo. Poi abbiamo avuto adesso l'innesto del nostro ragazzino di Cervinara 95, che è romano, sul quale noi come società speriamo tantissimo, perché pensiamo che abbia tante qualità da poter mettere a disposizione del Cervinara. Diciamo che qualche difficoltà è vera, è vero che c'è, quindi voglio dire, ma non è quello secondo me il problema. Il problema del Cervinara, secondo me, è quella di credere di essere una grossa squadra. Per la prima volta domenica non abbiamo preso gol e questo è un fatto positivo, perché ogni partita abbiamo sempre subito qualche gol. Quindi voglio dire, già il fatto di aver centrato in difesa con Raucci, che penso che sia un calciatore di grossa esperienza e che può dare a questo Cervinara quella tranquillità, perché noi abbiamo bisogno, secondo me, di tranquillità, perché noi il gol, io lo dico, lo facciamo sempre, perché con Ciccio Mortelito, con Francesco Portone, noi la palla dentro la mettiamo, abbiamo fatto, se non erro, 10-11 gol come attacco, quindi voglio dire, non sono pochi. Quindi voglio dire, il centrocampo vedremo, ma lo so benissimo che è con il centrocampo che si vincono i campionati e si giocano le partite. Però adesso vedremo un attimo con questo assetto finale, con questo altro acquisto che abbiamo fatto, vedremo un po' di vedere se riusciamo a sistemare finalmente questo centrocampo. Chiudiamo con una domanda sulle restanti squadre, abbiamo detto Nusco e Forino, i guardi attengono, o al di là di qualche piccola debacle in casa, però alla fine Cervinara e Forza e Coraggio verranno fuori, perché sono squadre costruite con un criterio e, come diceva prima il Presidente, con una certa logica. Quindi sicuramente si assisterà ad un proseguo di campionato entusiasmante. Ma l'ho detto prima che iniziasse questo campionato, ti ricordi abbiamo fatto un'intervista e te l'ho detto che è un campionato, secondo me, bellissimo, uno dei più belli della categoria, formato da grandissime squadre. Ci sono delle squadre che fino alla fine emergeranno, perché ancora non emergono. Io penso che la Forza e Coraggio è una di quelle che in questo momento vive una situazione particolare, ma verrà fuori, anche perché dietro c'è un'organizzazione societaria forte. Quindi voglio dire, il campionato è ancora all'inizio. Vedremo, dopo la sosta invernale di dicembre, da lì, da gennaio, si comincerà a vedere il vero campionato di promozione G9C, perché sarà quella la svolta. Se a gennaio si capirà chi ha la forza per stare nelle prime cinque, chi ha la forza per vincere il campionato, e vedremo anche chi saranno le squadre che poi dovranno retrocedere o fare i play-out.